Qui si inaugura una struttura costruita dalla Polizia di Stato, ma con la collaborazione anche finanziaria della provincia ed è un onore oggi avere qui il Capo della Polizia Nazionale, perché dimostra attenzione al territorio. Oltretutto in un giorno in cui siamo verso la fine del mandato del Questore Francini ed è quindi anche un momento bello per ringraziare il Questore Francini per il grande lavoro che ha fatto nel suo mandato e il grande rispetto che ha avuto per l'autonomia, perché questo non è sempre scontato e quindi è un momento in cui il Capo della Polizia ci onora di queste due motivazioni.